Il Comune di Foggia intende mantenere gli impegni assunti nei confronti della Società Autostrade per l'Italia S.P.A. con riferimento alla realizzazione ed alla entrata in esercizio del secondo casello autostradale e quanto emerso nel corso della riunione convocata dal sindaco Franco Landella e alla quale hanno preso parte tutti gli interessati dalla provincia all'Asia, alla Confindustria. L'esame della documentazione ha permesso di rilevare come tanto il Comune quanto la provincia di Foggia non avessero adottato tutti gli atti utili a fornire la necessaria copertura finanziaria agli accordi stipulati. Circostanza quest'ultima che il Comune di Foggia si è impegnato formalmente a superare nell'attesa dell'atto deliberativo di impegno da parte della provincia che andrebbe così a sanare gli obblighi assunti nel protocollo di intesa così come già fatto dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione di giunta in riferimento alla Convenzione. Il Comune dunque si è impegnato a mettere a punto e validare rapidamente per parte sua ed in forma ufficiale i provvedimenti necessari a fornire copertura finanziaria agli impegni contenuti nelle intese.